Mille anni fa anch'io era un ragazzetto come voi, miei cari e piccoli lettori. Anch'io avevo super giù la medesima vostra età, vale a dire fra gli undici e i dodici anni, e come naturale dovevo ancora io andare tutti i giorni alla scuola, salvo il giovedì e la domenica. Ma i giovedì nel corso dell'anno erano così pochi, appena uno per settimana, e le domeniche, le domeniche, era grazia di Dio, si ritornavano una volta ogni otto giorni. Anch'io andavo a scuola, ma non saprei dirvi se la mia scuola fosse elementare o ginnasiale o liceale, perché mille anni fa, ossia ai miei tempi, la scuola si chiamava semplicemente scuola. E quando noi altri ragazzi si diceva scuola, si intedeva parlare di una stanza piuttosto grande e quasi pulita, nella quale eravamo costretti a passare circa sei ore della giornata e dove qualche volta si imparava anche a leggere, a scrivere e a far di conto. La scuola alla quale andavo io era una bella sala di forma bislunga, rischiarata da due finestre laterali e con un gran finestrone nella parete di fondo, il quale rimaneva nascosto dietro una grossa tenda di colore verdone e cupo. presso le due pareti a destra e a sinistra della cattedra del maestro ricorrevano due lunghissimi banchi per gli scolari. Gli scolari seduti a destra si chiamavano romani e quelli a sinistra avevano il soprannome giocoso di Cartaginesi. Tanto gli uni che gli altri erano capitanati da un imperatore e per la dignità d'imperatore si capisce bene che venivano scelti due scolari che nel corso del mese avevano ottenuto un maggior numero di meriti, sia per buoni portamenti, sia per lodevole prova fatta nelle elezioni giornaliere. Una volta, me lo rammento sempre, il posto di imperatore dei romani toccò anche a me, ma fu una gloria passeggera. Dopo due ore appena di regno, per una delle mie solite brichinate, il maestro mi fece scendere dal seggio impriale e fui riconfinato in fondo alla panca. Eppure, si ha detto per la verità, ebbi tanta forza da sopravvivere a quella sciagura e in pochi minuti seppi darmene quasi pace. Si vede proprio che fin da ragazzo io non ero nato per fare l'imperatore. E ora indovinate un po' in tutta la scuola. Chi fosse lo scolaro più svogliato, più irrequieto e più impertinente. Se non lo sapete ve lo dirò io in un orecchio, ma fatemi il piacere di non starlo a ridire ai vostri babbi e alle vostre mamme. Lo scolaro più irrequieto e impertinente ero io. Non passava giorno che non si sentisse qualche voce gridare «Signor maestro, che fa smettere Collodi? Che cosa ti fa Collodi? Mangia le ciliegie e poi mi mette tutti i noccioli nelle tasche del vestito». Allora il maestro scendeva dal suo seggio, mi faceva sentire il sapore acerbo delle sue mani secche e durissime, come se fossero di bossolo, e mi ordinava di cambiare posto. Dopo un'ora che avevo cambiato posto, ecco un'altra voce che gridava «Signor maestro, che fa smettere Collodi? Che cosa ti fa Collodi? Acchiappa le mosche e poi me le fa volare dentro l'orecchio». Allora il maestro, dopo avermi dato un altro saggio della magrezza e della durezza delle sue mani, mi faceva mutare posto da capo. Fatto sta che a furia di mutare posto tutti i giorni, sulla panca dei romani non c'era più un romano che volesse accettarmi per suo vicino. Fui mandato, per ultimo ripiego, fra i cartaginesi e mi trovai accanto al più buon figliuolo di questo mondo, un certo Silvano, grasso come un cappone sotto le feste di Natale, il quale studiava poco, questo è vero, ma dormiva moltissimo, confessando da se stesso che dormiva più volentieri sulle panche di scuola che sulle materasse del letto. Un giorno Silvano venne a scuola con un paio di calzoni nuovi di tela bianca. Appena me ne accorsi, la prima idea che mi avvalenò alla mente fu quella di dipingergli sui calzoni un bellissimo quadretto a tocco di penna. Tant'è vero che quando l'amico, secondo il suo solito, si fu appisolato con i gomiti appoggiati al banco e con la testa fra le mani. Io, senza mettere tempo in mezzo, insuppai ben bene la penna nel calamaio e sul gambale davanti gli disegnai un bel cavallo col suo bravo cavaliere sopra. E il cavallo lo feci con la bocca aperta in atto di mangiare dei grossi pesci perché così ci si potesse capire che questo capolavoro era stato fatto di venerdì, giorno in cui generalmente tutti mangiano di magro. Confesso la verità, ero contento di me. Più guardavo quel bozzetto e più mi pareva ad aver fatto una gran bella cosa. Così, però, non parve al mio amico Silvano, il quale, svegliatosi dal suo pisolino e trovando sui calzoni bianchi dipinto con l'inchiostro un soldato e un cavallo che mangiava i pesci, cominciò a piangere e a strillare con urli così acuti da far credere che qualcuno gli avesse strappato una ciocca di capelli. «Che cosa ti hanno fatto?» gridò il maestro rizzandosi in piedi e aggiustandosi gli occhiali sul naso. «Quel cattivaccio di collodi mi ha dipinto tutti i calzoni bianchi» e dicendo così alzò in aria la gamba mostrando il disegno fatto da me con tanta pazienza e, oserei dire, con tanta bravura. Tutti risero, ma il maestro disgraziatamente non rise. Anzi, invece di ridere, scese giù dal suo banco, tutto infuriato come una folata di vento, e senza perdersi i rimproveri e parlantine inutili. «Basta!» Per un certo sentimento di pudor naturale rinunzio a descrivervi i diversi argomenti maneschi che egli pose in opera per farmi guarire dalla strana passione di dipingere i calzoni dei miei compagni. Peraltro, finita la scuola, il povero Silvano non voleva a nessun costo tornare a casa, vergognandosi a farsi vedere in mezzo alla strada con quella pittura a tocco in penna sulla gamba sinistra. E allora che cosa immaginai? Tanto per abbonirlo gli appuntai sul davanti un foglio di carta bianca, il qual foglio, scendendogli giù fino al ginocchio a guisa di crembiule, nascondeva agli sguardi indiscreti del pubblico e dei ragazzacci di strada il mio bellissimo capolavoro. Il giorno dopo fu per me una giornata nera, indimenticabile. Appena entrato nella scuola, il maestro, con un cipiglio da far paura, mi disse, accennandomi un banco solitario in fondo alla scuola, «Prendi i tuoi libri e i tuoi quaderni e va a sederti laggiù, così ti troverai sempre solo e isolato da tutti e così pagherai caro il bruttissimo vizio di molestare i compagni che hanno la disgrazia di starti vicini». Mojo, mojo, come un pulcino bagnato, chinai il capo e ubbidì. Per il primo e il secondo giorno tollerai con rassegnazione la mia solitudine, ma il terzo giorno non ne potevo più, proprio non ne potevo più. I compagni mi guardavano e ridevano. Mi pareva di essere in berlina. Dietro alle mie spalle, come sapete, rimaneva un gran finestrone sempre chiuso e sempre coperto da una tenda di grossissima tela di colore verdone cupo. In un momento di gran noia e mentre cercavo qualche passatempo per divagarmi, ecco che mi venne fatto di accorgermi che in quella tenda, e precisamente all'altezza del mio capo, c'era un piccolissimo bucolino. Appena visto quel bucolino, il mio primo pensiero fu quello di allargarlo un poco per giorno e di allargarlo fino al punto da poterci passar dentro con tutta la testa. Questo lavoro durò quasi una settimana, perché la tela della tenda era molto ruvida e resistente. Alla fine, quando il bucolino diventò una buca, feci subito segno ai miei compagni di scuola di stare attenti perché avrebbero visto un magnifico spettacolo. Detto fatto, approfittando di quel momento che il maestro stava rileggendo i nostri componimenti, entrai dietro la tenda e cominciai a lavorare col capo. La buca era grande, ma il mio capo era più grande e non ci voleva entrare. Io però pigiai tanto, e poi tanto che finalmente il capo c'entrò. Figuratevi la risata sonora che scoppiò in tutta la scuola quando la mia testa fu vista campeggiare in mezzo a quella tenda verdona, come se qualcuno ce l'avesse attaccata con quattro spilli. Ma il maestro, al solito, non volle ridere e invece, muovendosi dal suo banco, venne verso di me in atto minaccioso. Io, come è naturale, mi provai subito a levare il capo dalla tenda, ma il capo, che c'era entrato forzatamente, non voleva più uscire. La mia paura in quel punto fu tale e tanta che cominciai a piangere come un bambino. Allora il maestro si voltò agli scolari e in tono canzonatorio disse loro, lo vedete là il vostro amico collodi, tanto buono, tanto studioso, tanto garbato con i suoi compagni di scuola? Non vedete, poverino, come piange? Muovetevi dunque a compassione di lui, alzatevi dalle vostre panche e andate a rasciugargli le lacrime. Vi lascio immaginare se quelle birbe se lo fecero dire due volte. Ridendo e schiamazzando, si schierarono in fila a uso processione e, passando a due per due dinanzi a me, mi strofinarono tutti il loro fazzoletto sul viso. E pensare che fra quei fazzoletti dal naso ve ne erano parecchi che non avevano mai visto in faccia né la lavandaia né la stiratora. Meno male che a quell'età tutti i nasi sono fratelli fra loro. La lezione fu acerba, ma salutare. Da quel giorno in poi mi persuasi che a fare i molesti e gli impertinenti si finisce nelle scuole per perdere la benevolenza del maestro e la simpatia dei compagni. Diventai un buon figliolo anch'io, rispettavo gli altri e gli altri rispettavano me. E dopo un mese di lodevoli portamenti, fui nominato da capo imperatore dei romani. I romani però della mia scuola, invece di darmi il titolo di maestà, continuarono sempre a chiamarmi col modestissimo nome di Collodi.